Musica del 2006. È una stallone di ottima genealogia, suo padre è Armitage, un figlio di Argentinus, una grande performer, e sua madre è un benito volo, una figlia di Edprecher per Voltart, per Pino. È una stallone che ha svolto attività sportiva in categoria Giovani Cavalli e in attesa dell'approvazione finanziaria italiana, ma tutti potete ammirare l'ottimo modello di questo stallone olandese, ricordo Armitage è il padre e sua madre, un benito volo da Edprecher per Voltart per pilota, quindi una linea di sangue importantissima che fa capo allo Stam Westphalen 463, uno Stam da quale sono scaturiti molti ottimi cavalli sportivi, iRog, PN, Game Boy e ancora tutti i fratelli materni di Brubin, che è la proprietà di Jasmine Kadri, quindi disponibile per la stagione di Brubin che rimonta nel 2018, Brubin è nato nel 2006. Lo possiamo rivedere, magari, altro altro movimento. Olandese, Brubin, scritto nel Capo Popier. Beh bene, ragazzi siamo anche brutti in Armitage è il padre grande per fortuna che ricordiamo con Marco Selig che è già padre di ottimi soggetti sportivi, Armitage è uno stallone tra l'altro approvato in molti studi book praticamente in tutta Europa, in Annove, in Westfalia, in Reiland, in Olanda, in Belgio, in Svezia, in Austria, insomma uno stallone veramente internazionale con un clinico e uno dei suoi figli e ora è disponibile per trasmettere la sua genetica in Italia, Jasmine Calle è la proprietaria di Brutli, dopo Bupieri nato nel 2007 e anche a Brutli fa un applauso ovviamente di tutti questi stalloni che sono disponibili